Quello che piazza Caldinelli non è così E quello lì della fine Eh? Sì Eh me l'ha vinto Gli arrivi La prima che vuoi Questo di che è Caldinelli? Eh Eh Sì Ah Parlo Allora, il 15 agosto sono 10 euro, se tu vuoi andare prima sono 30, dal primo di agosto 30 euro, se tu vuoi andare prima, se tu vuoi andare prima, se tu vuoi andare prima a noi c'è stato il evitato, se tu vuoi andare prima da farm啊 a noi c'è stato il comportamento, non c'è stato il comportamento di assicurazione fino al dono, non c'è stato una presenza ma ha vediato, non c'è stato un po' di fällt 2 euro, allora deve pulire ilpoxicon A presto, a presto. Al prossimo episodio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.